Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Quelle che si stanno vivendo sono settimane molto complicate per il mondo del calcio in generale e, in particolare, per la Sampdoria. Il 16 dicembre scorso è venuto a mancare un grande ex blucerchiato come Sinisha Mijajlovic, spentosi dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Pochi giorni fa, invece, è morta una vera e propria bandiera della Samp, vale a dire Gianluca Vialli, bomber di quella squadra che nel 1991 riuscì a laurearsi campione d'Italia. Nelle scorse ore, inoltre, il club blucerchiato ha dovuto fare i conti con un altro terribile lutto e ha detto addio ad un altro autentico pezzo di storia del club ligure. Al settimo posto nella classifica dei calciatori con più presenze nella storia della Sampdoria, a perdere la vita quest'oggi, all'età di 90 anni, è stato Gaudenzio Bernasconi, ex difensore blucerchiato degli anni 50 e 60. A dare il triste annuncio, è stato proprio il club ligure che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un comunicato nel quale cita i calciatori con più presenze nella storia del club. Le statistiche, dunque, non lasciano spazio a dubbi e parlano di un autentico pezzo di storia blucerchiata. Storia vera scrive nel comunicato il club a cavallo tra gli anni 50 e 60, ossia quando essere blucerchiati non era semplice come 30 anni più tardi.